Allora, Sharon, i nuovi guanti dell'Adidas Glory, quelli che userai nel match contro Mustafa Ida, come li trovi? Si sente che questi sono i nuovi Glory, perché io ero abituato all'alto modello Combat dell'Adidas, che sono un po' meno evoluti. Invece questi proprio li sento calzanti perfettamente. Il segreto del guantone è appunto più ti tiene chiusa la mano, più è buono il guantone. Questi guantoni si chiudono da soli, sono perfetti. Uno si risente sia aderenti al polso che qui sulle nocche, dove è più importante. Questi sono guanti studiati per i professionisti, quindi per i match di alto livello, di atleti che hanno bisogno veramente di un prodotto di massima qualità ed eccellenza. Soprattutto anche dentro si sente il tessuto, è anche un po' ergonomico. Calza bene anche il pollice, si si, sono degli ottimi... Allora, questo gemellaggio con l'Adidas per il Defight nel vostro match sicuramente sarà una cosa positiva. Certamente, perché Adidas è il migliore. Poi abbiamo anche altri impegni, spero di portare Adidas anche negli altri miei impegni che ho anche all'estero, a parte è già troppo conosciuta l'Adidas Boxing Club. Allora, ci vediamo comunque il 5 maggio al Pallagorle per il Defight, un match contro Mustafa Ida. Grazie. Grazie. Grazie.